Sta nascendo a Napoli questo primo master in cinema e televisione, la sua rorso va bene in casa, qual è l'augurio che si sente di fare agli studenti e alle future maestranze che potranno nascere da questo corso di studi? Devono solo essere se stessi e basta, non copiate nessuno, non immolate nessuno, sperimentate la vostra sensibilità e quella è la vostra unica arma in mano a voi. Le scuole sono molto importanti per poter essere un periodo di prova, di raffinamento della propria arte, ma non altro. Grazie. 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 Grazie.